Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 18 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Silenziosi e diffidenti, ma che progetti. Di chiacchiere vita sociale oggi non ne avete proprio voglia, state bene con voi stessi e coi vostri pensieri. Il passato, però, non è una miniera di ricordi tristi, alle esperienze vissute attingete per non ripetere gli stessi errori e vivere con più serenità. Progetti grandiosi, resi ancora più arditi dal trigono di Marte e Urano, ma con la luna che vi rema contro ridimensionarli sarà cosa saggia per non incorrere in future delusioni. Con gli altri vi dimostrate molto disponibili, ma solo se c'è bisogno di voi, altrimenti preferite rintanarvi sul dondolo in giardino o sotto l'ombrellone in compagnia del vostro quattro zampe e di un bel libro. Una nuova coppia potrebbe nascere presto e rapidamente, due persone giuste che si sono incontrati vivranno un nuovo amore e una nuova stagione. È il rapporto perfetto di coppia che si vive e si vorrebbe vivere. Presto i single potrebbero conoscere l'amore e la persona giusta potrebbe essere tra quelle già incontrate. Termine della solitudine. Sarai loquace. Buoni rapporti con fratelli, cugini, zii e vicini di casa. Date la sensazione di guardare continuamente al passato, non è forse giunto, anche per voi, il momento di voltare pagina, staccandovi definitivamente da tutto ciò che è stato? Buone notizie via posta o via cavo. Denaro extra. Punto discreto il morale nella mattinata, meglio nel tardo pomeriggio. Vantaggi frequentando associazioni o circoli. Soddisfazione da amici. Dal passato ritorna una vecchia conoscenza che potrebbe essere cambiata. Cerca di essere cauta. Non scoraggiatevi. La situazione può essere ancora risolta. Bastano solo coraggio e impegno. Chiarimenti in arrivo su vari fronti, alcune persone vi cercheranno per rappresentarvi le loro lamentele, altri potrebbero comunicarvi decisioni importanti. Saturno renderà particolarmente affascinanti le persone nate di lunedì e giovedì, queste hanno delle ottime opportunità per fare colpo sugli altri. Scrivendo, comunicando o viaggiando potrai guadagnare soldi in più. Troppa impulsività, controllati. Conta fino a 10 prima di parlare. Oggi sarete in parte su di giri, perlomeno quelli nati tra le 11 e le 18, e giove in serata potrebbe regalarvi dei momenti di intensa soddisfazione. In famiglia oggi avrete da mettere a posto alcune questioni, ma riuscirete anche a ritagliarvi il vostro relax al tepore degli affetti. Il duo Saturno, Nettuno, promotore di cambiamenti con la fatica della ragione, continua a transitare in posizione ostile, provocando contrarietà, ma in certi casi agendo da stimolo provocatorio e da suggestione geniale. Il segno dove si svolge l'aspetto è quello dei pesci, che vi spinge a superare voi stessi strappandovi un po' alla vostra tendenziale normalità a Virginia, specie se nati in settembre. Umore così così, sicuramente non radioso. Un fastidioso mal di pancia, da leggersi sia in senso fisico che interiore, è l'effetto della quadratura lunare, ma verosimilmente anche del suo dirimpettaio Giove, può trattarsi di un'occasione professionale andata in fumo, un colloquio con il capo che vi preoccupa o di mansioni che ritenete di non essere in grado di espletare, perché per voi perfezionisti, sotto sotto insicuri, se non si è in grado di dare il massimo meglio non provarci neppure. Affettuosa la famiglia, anche se sottilmente vi rimprovera, rinfacciandovi di preferire la carriera, ma con venere imbronciata in dodicesima casa i sentimenti restano nelle retrovie. Amore ed eros. Se state con un separato o lo siete entrambi sono tempi duri, tra diverbi e malumori familiari. La musica non cambia per i single, la persona di cui vi siete invaghiti esiste solo nei vostri sogni, state coi piedi per terra. Intorno avete una cerchia di amici niente male, qualcuno vi corteggia apertamente, non sottovalutatelo, è un tipo pieno di virtù. Di fronte ad alcuni capricci che il partner oggi vi mostra, dovuti essenzialmente alla configurazione contraria determinata da Saturno e da Nettuno, vi sapete difendere con il gusto per lo scherzo e ognonia amabile che da sempre il vostro segno sa mostrare. Con il sole in cancro, benefico per il vostro segno, mettete in gioco la vostra passionalità e siete sicuri di non fallire il bersaglio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 settembre. Lavoro e denaro. Giornata grigia se lavorate nel turismo o come animatori, non vi va di chiacchierare, ma battute e risate sono il vostro ruolo. Consolazione finanziaria, una piccola vincita vi tira su. Pazzin boutique, stavolta uscite dal ruolo di braccino corto. Se avete abbracciato un'attività autonoma, darete oggi prova di una notevole energia vitale, accompagnata da un intuito fulmineo, con queste due qualità riuscirete ad anticipare le mosse di avversari agguerriti. Perché per voi il lavoro è gioia e vi gratifica lo spirito, a dispetto di quel che alcuni pensano, o meglio la maggioranza pensa. Benessere. Fissati come siete con l'alimentazione bio, vi basta un piccolo sgarro per accusare prurito i gonfiori. Repentini sbalzi di umore che gli altri non capiscono. E forse nemmeno voi. Denaro. Urano è al vostro fianco e sorregge le vostre mosse economiche. E anche con un bel sole potete dare sfogo alla vostra voglia di gioco e provare un gratta e vinci. Per lei, spesa all'ingrosso di alimentari per riempire il frigo evitando di girare per supermercati. Piccola scorta anche ai nonnetti di famiglia, incombenza noiosa ma tranquillizzante. Per lui, feste, bevute e danze etniche, ma solo nei ricordi, massicci impegni di lavoro vi dissuadono dal fare pazzie, ci mancherebbe anche risvegliarsi domattina con lo stomaco sottosopra. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo! Grazie per aver guardato il video.